Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Quante volte? Tantissime. Gesù direbbe 70 volte 7. Ho compiuto l'anno scorso vent'anni di matrimonio e sono tantissime le volte che ho offeso mia moglie. Sono stato egoista, mi sono arrabbiato, ho detto delle bugie. Sono tantissime le volte che sono stato offeso. Ho chiesto perdono e sono stato perdonato. Mi ha chiesto perdono e l'ho perdonata. Talvolta di slancio, talvolta con fatica. L'esperienza che abbiamo fatto è che dopo ogni perdono il rapporto ricominciava da un livello più alto, più intimo. Quante volte ho offeso Dio? Tantissime. Quante volte sono stato perdonato? Sempre. Non riesco a pensare a una vita senza perdono. Posso riconoscere che ho sbagliato perché ho sperimentato che c'è qualcuno che mi ama così come sono, che sempre mi accoglie e mi dà il coraggio di ricominciare.